Ero a un pranzo di lavoro, mi ha chiamato un amico e mi ha detto ti hanno definito Lucifero. E io la cosa mi ha fatto sorridere. Ma poi, diciamo poi, quando hanno giocato duro e allora lì si sono riaperte molte ferite, all'inizio c'è stato sgomento, poi dolore. Adesso tanto schifo. Grazie.